L'ARPA Puglia smentisce il governatore Emiliano sui veleni dell'Ilva. Non c'è un aumento di inquinanti dopo la riattivazione dell'Alto Forno 1, sostiene l'Agenzia regionale, che stronca così l'allarme lanciato da Emiliano poche ore prima e le foto di fumi sospetti scattati dai cittadini. L'ARPA segnala che i dati arrivano dal monitoraggio di routine delle centraline. Per l'Agenzia ambientale il miglioramento è legato al contesto produttivo. Dal 6 agosto, infatti, il siderurgico produce con tre altiforni, l'1, il 2 e il 4, ma l'1 è stato adeguato e ambientalizzato e lavora a regime ridotto, 5.400 tonnellate di ghisa contro le 10.000 del 5 che è stato chiuso, intervento che ha ridotto l'inquinamento a partire dall'acido solfidrico, migliorando nel contempo il risparmio energetico. A conferma del dato positivo c'è un paragone, quello col 2014, dopo i primi risanamenti. All'epoca funzionavano tre altiforni a pieno regime e ciò nonostante calarono le concentrazioni di PM10 e polveri sottili, le sostanze cancerogene. Ma il presidente Emiliano insiste, in un telegramma ai vertici dell'ARPA ha chiesto con urgenza controlli specifici ed una relazione ad hoc a stretto giro. Il timore ripreso dalla stampa è che la riaccensione dell'Altoforno 1 abbia creato un malfunzionamento e di qui un aumento dei veleni nell'area di Taranto.